Oggi preparo plum cake di patate. Per questa ricetta ci vorranno un chilo di patate. Io le ho cotte in pentola a pressione. Dopo il sibilo ci vorranno circa 15 minuti. Una volta che saranno bollite togliete la buccia e poi schiacciatele con un passapatate. Aggiungete 50 g di grana grattugiato, 3 uova. Se vi piace la ricetta commentate anche con una sola faccina, grazie. Salate, tagliate a cubetti 30 g di burro a temperatura ambiente. Poi mischiatele e si scioglierà subito con le patate ancora calde. Foderate uno stampo da plum cake con della carta da forno e bagnate strizzata. Prenderà perfettamente la forma dello stampo. Mettete un filo d'olio, cospargetelo un po' su tutta la superficie e un po' di pangrattato. Devo dire grazie a mia figlia che ha realizzato questo video e ha preparato completamente da solo questa ricetta. Mettiamo una base di purea di patate, poi delle fette di prosciutto cotto, delle fette di edamer, ancora uno strato di patate e poi ancora del prosciutto cotto con dell'edamer affettato. Chiudiamo tutto con ancora un altro strato di patate. Distribuitelo bene uniformemente in tutta la superficie, poi aggiungete un filo d'olio, ancora un po' di pane grattugiato. Cuocete in forno statico a 180 gradi per circa 35 minuti. Questo è il risultato dopo la cottura, morbido e filante e appetitoso. Grazie e alla prossima ricetta!